I lavori del Consiglio Provinciale di Egrigento riprenderanno domani, martedì 5 marzo alle 18. L'ordine del giorno prevede la discussione delle mozioni del Consigliere Orazio Guarraci sulla ufficializzazione della posizione politica del Presidente della Provincia e sul regolamento per l'istituzione e funzionamento della consulta provinciale dei trasporti. Il Consiglio dovrà pronunciarsi anche su tre regolamenti già in vigore da aggiornare per le variazioni della normativa di riferimento. Si tratta della modifica del regolamento di contabilità che regola il controllo sugli equilibri finanziari. Il secondo provvedimento riguarda il regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori provinciali che prevede modifiche agli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive di governo. Il terzo provvedimento riguarda l'approvazione del regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori che consentirà di ridurre le spese della politica, in particolare quelle relative ai rimborsi spesa e ai viaggi degli amministratori. Inoltre sarà discusso l'atto di indirizzo per le società partecipate della provincia di Agrigento ai fini del contenimento della spesa e del rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza.